Ma di che? Sapete bene di quale bobina parlo. Quella che ti ha inciso tutti i segreti di questa storia di merda. Permettete? Favorita. Quella per la quale quel paracuro di nane che voleva fare il furbo da solo è finita dentro la frigorifera e si è trovata chiusa come uno strunzo congelato. Ma guardate, io è la prima volta che sento a ballare di una bobina. Ma quale bobina? Dove tra loro voi vi volete prendere in giro? No. Ovi cercare la bobina e facciamo pasto. No. Ma voi che fate? Ma scherzate? Salta. Scusate. No, no, il mandolino no. Vi prega. La pendola di papà. Ma no. 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 Vi scongiuro. Signore Sella, noi teniamo una calza sola. Vi prego. Vatelo fermare. Ma... 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 Vatelo fermare, signor Sella. Mi piace mangiare la musica, suonate. Ma come si fa, come posso suonare? Suonate! Ehi, mi piace mangiare la musica. Suonate! Suonate! Più svegli! Ehi, ma a me è proprio sulla gamba. Suonate! Ma... Ma... Aldi, non fa rumore Amma di baccaruno, pure a me Lo dovete scusare, quelli ragazzi ti ne fanno Mangiate, mangiate No, no, il televisore, no Madonna mia Non, non, non Non, non, non Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non Oh madonna, madonna mia Ma che è successo qua? Niente papà Ma come niente papà? Ma che mi pare casa Michel? Qua c'è stato il terramato, guardate qua Signor Natale? Signor Natale, il professor Raffaele è qui presente Ha avuto una crisi, ha avuto una crisi, una crisi artistica Oh, ci rivediamo, eh? Con lui, guardate qua, guardate qua, guardate qua, ma questa non è una casa, queste sono macerie Qua c'è stato un'attacca aerea di fortezza volante Sentono poco, sentono qua, guardate qua, guardate qua, guarda là come si è combinata Senti a papà, non è mo' che uno si ingaccia, ma tu sai che ti voglio bene e te l'ho detto migliaia di volte Ecco, tu devi stare tranquillo Vedi, non è per i mobili che oramai si è scassato, tutta cosa Ma io figuri che io già volevo chiamare un artichecco Chiamavo un artichecco di quelli moderni Ma faceva una bella casa per te, per te Perché tu hai bisogno di un periodo di riposo Ma tu hai capito, eh? Quei criminali, quelli mi volevano ammazzare E lo sai, per che cosa? Suocessi Eh, a bobina A bobina? Per la bobina La bobina La bobina La bobina Ma hai capito? Ma che... Sì, sì La bobina La bobina Ma che dici? La bobina La fe La fe, ma tu una volta non merite cadere una mica A omanicovi e sandarita